Non pensavamo arrivasse la polizia per aver fatto esplodere due bottigliette. E' questa la frase pronunciata da tre ragazzini fra gli 11 e i 13 anni che ieri sera hanno confessato di essere i responsabili della deflagrazione delle due bottiglie esplose lunedì pomeriggio di fronte alla scuola primaria Lubic di Vianitti in zona Pantano. Frase che trasuda una allarmante ingenuità per un'azione che ha gettato allarme e panico fra personale scolastico, famiglie e degli alunni e che, per puro caso, non ha avuto conseguenze sulla incolumità dei bambini usciti dall'istituto a pochi minuti di distanza dalle esplosioni. I ragazzini, in quanto minori di 14 anni, non sono imputabili. Hanno confessato di fronte agli inquirenti alla presenza dei genitori del tutto inconsapevoli della premeditazione del gesto. I ragazzini hanno infatto riempito le bottiglie di un pericoloso acido muriatico mescolato ad alluminio perché, come hanno spiegato, su YouTube hanno visto la procedura e la reazione e volevano replicarle. Hanno acquistato l'acido e hanno procurato l'esplosione davanti alla scuola semplicemente perché era un luogo che potevano osservare dalla stessa strada in cui abitano. Insomma, è andata come presumeva la vicepreside Renata Porta che avevamo ascoltato ieri. Forse potrebbe essere stata anche una cosa che voleva essere una specie di brutto scherzo e che invece non si è pensato potesse avere delle conseguenze. Peccato che quei brutti scherzi ad opera di bambini continuino a moltiplicarsi. Appena due giorni prima, altri coetanei avevano infatti dato fuoco ai geliginezzanti sulle panchine della chiesa di Villa San Martino. Il penultimo episodio di una sempre più lunga serie di preoccupante disagio generazionale. Grazie a tutti.